Musica E' partito in seguito alle indagini su un omicidio e il blitz antidroga dei carabinieri di Sassari che ha portato all'arresto di 17 persone in Sardegna. Zone economiche speciali, aree con agevolazioni fiscali e burocrazia ridotta nei porti della Sardegna, un'opportunità ma non la soluzione. I studenti universitari e il personale dell'Ersu, protagonisti del nuovo spot dell'ente diretto dal regista Michele Gagliani, presentato questa mattina. TG12 edizione serale ben trovati, edizione che apriamo con la cronaca, lo avete sentito dagli strelli del nostro sommario, operazione Green Thumb. I carabinieri del nucleo investigativo di Sassari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per 17 persone emessa dall'ufficio del GIP del Tribunale di Sassari per coltivazione, produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Ce ne parla Marina Sanna. Blitz dei carabinieri di Sassari, arrestate 17 persone per coltivazione, produzione e traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione, chiamata Green Thumb, è stata avviata il 9 aprile 2017, quando ad Alà dei Sardi, all'interno di un bar, per futili motivi, era stato ucciso con due colpi di pistola il 47enne Pietro Nieddu. Alcune ore dopo il delitto si era costituito l'autore dell'omicidio, il 27enne Antonio Baltolu. Nel corso delle indagini tra la fine di aprile e i primi di maggio erano emerse sospette attività illecite da parte di alcuni parenti dell'autore di quel delitto, dimostrando che il centro nevralgico dell'organizzazione del traffico di ingenti quantitativi di droga era gestito da Alà dei Sardi, da personaggi del luogo. A loro volto e in contatto con numerosi soggetti abitanti a Olbia, questi ultimi avevano messo in piedi una fittissima rete di traffico e di spaccio, che soprattutto nel periodo estivo e in concomitanza con la maggior presenza di turisti, era in grado di rifornire moltissimi locali e strutture ricettive non solo della costa Smeralda, ma più diffusamente di tutto il nord-est della regione. Durante le indagini tra agosto e settembre i militari del nucleo investigativo avevano anche sequestrato due vastissime piantagioni di cannabis attiva e arrestato quattro persone. Il primo sequestro di ben 4.887 piante, ricavato dalle eccessioni illecite dello stupefacente, quantificato in diversi quintali, è stato stimato in circa 15 milioni di euro. Il secondo sequestro contava 2.534 piante. L'operazione odierna nel suo complesso ha consentito di interrompere un ingente e altamente remunerativo flusso di stupefacenti destinato soprattutto ai giovani. Con il provvedimento restrittivo è stata disposta la custodia cautelare in carcere per 10 delle 17 persone coinvolte. Per gli altri 7 sono stati disposti gli arresti domiciliari. Lasciamo la cronaca ieri nel giorno della solennità del Corpus Domini. La tradizionale processione ha attraversato il centro storico di Sassari in piazza d'Italia. L'arcivescovo Gianfranco Saba ha guidato l'esposizione del Santissimo al mattino il gremio di Viandanti. Ha rinnovato le cariche con la suggestiva cerimonia del sorteggio degli obreri. Per noi c'era Luca Fodai. Si è conclusa con l'esposizione del Santissimo la processione del Corpus Domini che ieri sera ha attraversato il centro storico di Sassari. La pioggia ha solo ritardato il corteo, partito come sempre dal Duomo di San Nicola e arrivato in piazza d'Italia. Presenti gremi, confraternite, parrocchie, associazioni religiose e del volontariato, insieme al capitolo turritano, ai seminaristi e al gonfalone dell'amministrazione comunale. L'arcivescovo Monsignor Gianfranco Saba ha ringraziato tutti al termine della funzione, durante la quale sono stati cantati il Christus Vincit e il Tantum Ergo. Come da tradizione, il baldacchino che proteggeva il Santissimo è stato portato dai componenti del gremio dei Viandanti, che ieri, nel rispetto degli atti costitutivi del 30 giugno 1633, ha rinnovato le cariche con il rito del sorteggio degli obrieri, che si è svolto al mattino, nella cappella che accoglie le infigie della patrona Nostra Signora del Buon Cammino, nella chiesa di Sant'Agostino. Il nuovo obriere maggiore per il 2018-2019 sarà Giuseppe Manca, l'obriere di Candeliere Costantino Sanna, mentre il terzo di bandiera sarà Alessandro Carta. L'obriere maggiore in carica Antonio Pala passerà la bandiera al nuovo obriere in occasione della festa in onore della patrona Nostra Signora del Buon Cammino, che si rinnova ogni anno nella seconda domenica di agosto che precede la Faradda. Un anno fa, proprio in questi giorni, è stato ricordato, il simulacro veniva esposto sull'altare papale in piazza San Pietro a Roma, durante la solenne celebrazione della Pentecoste presieduta da Santo Padre Francesco. La Brigata Sassari per la festa della Repubblica a Roma ha sfilato ai fori imperiali intonando Forza Paris davanti al presidente del neo-governo. Ce ne parla Giovanni Bonfigli. La Sardegna in prima fila nei festeggiamenti di sabato in occasione della festa della Repubblica. La Brigata Sassari ha marciato intonando Forza Paris, lo storico inno che affonda le sue radici nella Prima Guerra Mondiale. I Dimonios hanno sfilato davanti al presidente della Repubblica e al nuovo governo ricevendo grandi apprezzamenti. Per la Sardegna era presente anche l'assessore degli affari generali, Filippo Spanu, con il gonfalone della regione. Ho ringraziato il presidente Mattarella per l'equilibrio con cui ha portato a soluzione la crisi del governo, ha affermato Spanu, dichiarando di aver avuto l'opportunità di incontrare il ministro all'interno Matteo Salvini, con il quale ha avuto un primo confronto sui temi dell'immigrazione e sull'impegno nella Sardegna riguardo a questo delicato argomento. Il tema delle zone economiche speciali al centro di un convegno a Cagliari, una grande opportunità per la Sardegna, ma non l'unica medicina per risollevare l'economia dell'isola. Sentiamo. E' proseguito Cagliari dopo l'incontro di Sassari, il tour per la presentazione del libro di Aldo Berlinguer, Porti, Retroporti e zone economiche speciali. Un'occasione per affrontare ancora una volta il tema delle zone economiche speciali con i maggiori attori del territorio, all'incontro che si è svolto nella sala conferenza del Molech in USA, erano presenti il presidente della Giunta regionale, Francesco Pigliaru, e il presidente dell'autorità portuale, Massimo Dejana. Per Pigliaru si tratta di una grande opportunità, ma non dell'unica soluzione per risollevare l'economia dell'isola. E' comunque innegabile, ha proseguito il governatore Sardo, che i vantaggi di agevolazioni fiscali e burocrazia ridotta possano attrarre nuovi investitori. Dello stesso avviso anche Massimo Dejana, non basta l'istituzione delle Zesse per dilottare in Sardegna tutti i traffici commerciali, ma è una possibilità da sfruttare, non appena avremo ulteriori informazioni. Una possibile alleanza tra le due isole maggiori, in vista dell'istituzione delle zone franche, è stata avanzata dal vice governatore della regione Sicilia, Gaetano Ormao, autore del libro Redimibile Sicilia, tra i relatori ospiti dell'incontro cagliaritano. Che ci vogliano scelte nette, senza campanilismi e dispersione di energie, ma concentrando i 24 chilometri previsti per la Sardegna, vicino al porto di Cagliari, è quanto ha dichiarato il presidente di Confindustria Alberto Scano. La Sardegna deve diventare un'area di connessione nel Mediterraneo, infine ha fermato Mondino Schiavone, vicepresidente della Camera di Cooperazione Italo-Araba. È infatti impensabile che l'isola sia l'unica regione con problemi di spopolamento, avendo una posizione invidiabile. E torniamo a Sassari, presentato questa mattina, il nuovo spot dell'ERSU dal direttore generale Antonello Arghittu, il regista Michele Gagliani e il cast formato da studenti ed ex studenti dell'Università di Sassari. Vediamo. Uno spot per promuovere i servizi dell'ERSU, con protagonisti gli studenti universitari di Sassari, diretti da Michele Gagliani, regista Sardo, già primo premio Alta Romina Film Festival, alla sezione web serie e autore di numerose campagne promozionali di successo a livello internazionale. Una sfida per il regista che ha selezionato direttamente i protagonisti, tutti al primo CHAC. La sfida è stata quella, però la politica era quella di coinvolgere più persone possibili che vivono direttamente l'esperienza universitaria, l'esperienza dell'ERSU e di coloro che utilizzano tutte le strutture dell'ERSU. Lo spot della durata di un minuto e mezzo ha richiesto un lavoro di due settimane tra casting e riprese e si sono svolte nelle location delle strutture dell'ERSU, dagli alloggi alla mensa. Quattro giorni di ripresa, di produzione, però almeno una settimana di pre-produzione per trovare gli attori, che non era facile, per fare sopralluoghi nelle location e poi per organizzare e mettere tutto in sintonia. Lo spot sarà diffuso nei canali istituzionali dell'ERSU e negli eventi di orientamento. E ora parliamo di disabilità, iniziativa dei commercianti del centro per agevolare i clienti disabili. Una targa esposta nella vetrina indicherà in quali negozi è disponibile una pedana amovibile. Sandra Sanna Via l'iniziativa negozi accessibili in una città come Sassari, dove strade e negozi non possono adeguarsi a una corretta disciplina edilizia a causa degli spazi ridotti dei marciapiedi al centro. Ecco quindi che l'associazione Io compro al centro, in collaborazione con la locale sezione del WIDM, ha ideato di predisporre scivoli amovibili da collocare a richiesta del disabile che manifesta l'intenzione di entrare nell'esercizio commerciale. Per individuare il negozio che offre questo servizio è stato apposto un adesivo nelle vetrine che indica quali punti commerciali sono dotati di pedana. La presentazione è avvenuta sabato mattina in Piazza Zuni nei negozi di abbigliamento di Lucio Nali, promotore dell'iniziativa, alla presenza del consigliere comunale Francesco Arcadu e di numerosi simpatizzanti aderenti all'associazione Io compro al centro. Restiamo ancora sul tema disabilità, cortometraggi, musiche e poesie sul tema. Gli elaborati sono stati realizzati dagli studenti delle scuole secondarie. Questa mattina la cerimonia di consegna del premio Farace nell'Aula Magna dell'Università. Vediamo. Cerimonia di premiazione questa mattina nell'Aula Magna dell'Università di Sassari per la consegna dei premi di studio Farace per elaborati su temi correlati alla disabilità rivolta agli studenti iscritti alla terza, quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Sassari, Olbi a Tempio, Nuore e Oristano. Ad essere premiati i quattro elaborati, il file musicale del liceo coreutico e musicale azioni di Sassari che racconta della storia di un ragazzo normale che diventa disabile a seguito di un incidente stradale. Prima il crollo del muro apparentemente insormontabile dalla disabilità, poi con lentezza germoglia la scoperta della musica, del pianoforte, quale strumento per poter nuovamente vedere i colori e la bellezza del mondo. Premio anche per il liceo artistico Francesco Costantino di Alghero con il cortometraggio di Marco Peddio. Con la forza delle immagini l'autore illumina lo spettatore su cosa vuol dire vivere dal di dentro l'autismo, al di là di ogni barriera, di una società che si immobilita intorno al ragazzo, una poetica lettura della realtà di un ragazzo autistico. Il liceo classico Azuni di Sassari, il video accompagnato da una colonna sonora di musica elettronica originale particolarmente indovinata per il suo duplice aspetto melodico ma incalzante, descrive una tipica esperienza di un bambino affetto da un disturbo autistico. Gli autori ci fanno vivere anche in funzione soggettiva alcune anormalità sensoriali che riguardano molti ragazzi affetti da tale disturbo. Premio anche per la poesia Il Suono della Libertà del liceo Margherita di Castelvì di Sassari, bellissima testimonianza di una ragazza che parla di una persona con disabilità con il rimpianto di non averla difesa in passato dalle brutte parole. Il testo racconta in maniera originale un'esperienza dolorosa e commovente per giungere ad affermare che il concetto di disabilità ha una valenza relativa. Alla cerimonia questa mattina sono intervenuti il rettore dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli, il delegato alla disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento Stefano Soggio, la delegata all'orientamento Rossella Feligheddu. Ad ogni elaborato è andato un premio di 1000 euro. Domani e dopo domani nella Basilica del Sacro Cuore a Sassari la diciottesima rassegna internazionale e organistica propone per la prima volta in Sardegna l'integrale delle fantasie per organo di Max Räger. Un evento inserito nel calendario del Festival del Mediterraneo 2018. Vediamo. Domani 5 giugno e poi mercoledì 6 prosegue nella Basilica del Sacro Cuore a Sassari la diciottesima rassegna internazionale e organistica inserita nel più ampio cartellone del Festival del Mediterraneo 2018 organizzato e promosso dall'Associazione Culturale Arte e in Musica. Le serate, con inizio in entrambi i casi alle 20 e 30, sono dedicate all'integrale delle fantasie per organo di Max Räger proposte per la prima volta in Sardegna in collaborazione con il Conservatorio Canepa. Saranno in totale 8 i musicisti coinvolti, gli allievi di triennio e biennio della classe di organo del Conservatorio Leandro Cossu, Stefano Melis, Elena Puliga, Fabio Frigatto, Pier Giovanni Domenighini, Giulio Gelsomino. Insieme a due docenti della materia, i professori Adriano Falcioni e Ugo Spanu. Un progetto impegnativo interamente dedicato al compositore tedesco Max Räger 1873-1916, di cui verranno eseguite tutte le fantasie su corale e le fantasie e fuga. Una prima assoluta per l'isola, un evento musicale di alto livello, un unicum per l'Italia di un'esecuzione rara e complessa. Räger è unanimemente considerato il più grande compositore di origine germanica di opere per organo dopo Johann Sebastian Bach. Ci fermiamo ora per un breve break pubblicitario. Torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. e eccoci di Torniamo in studio con la pagina sportiva. Il calcio in primo piano, oltre 3.000 tifosi hanno spinto la Torres alla vittoria della prima gara di andata della finale nazionale dei play-off. Con il Cannara finisce 1-0, si pensa già al ritorno di domenica prossima in Umbria. Cesare Donati. La Torres saluta un Vanisana gremito con una vittoria di misura sul Cannara nella gara di andata di semifinale nazionale play-off. Tante occasioni e un dominio pressoché totale per il Rosso-Blu, che tra una settimana andranno in Umbria per l'ultimo decisivo passo che potrebbe dare l'accesso diretto alla Serie D. La gara si apre nel ricordo commosso del giovane Nicola della Morte, il calciatore della polisportiva ottava, società Punto Torres, scomparso in circostanze tragiche domenica scorsa. Sulla sua maglietta il capitano Torepin ha deposto un mazzo di fiori tra gli applausi del pubblico sassarese. Fasi iniziali con le due squadre a studiarsi un po', poi si accende la Torres. A diciottesimo minuto conclusione a botta sicura di Spinola, su cui interviene Battistelli. Sulla ribattuta Sarrizu trova solo il palo esterno da posizione defilata. Si urla il gol al trentesimo minuto sull'incornata di Spinola, servito ottimamente da Mannoni in aria. Il fuorigioco c'è, anche se è di pochissimo. La ripresa si apre con un ritmo più alto, ma è sempre la Torres a fare la gara e il Cannara a difendersi. Mister Tortora cambia, al sesto minuto Piga, difidato, lascia il campo a Kelo, fuori anche di Uff, per Bianco. Risulta la mossa vincente per sbloccare l'incontro. Al diciottesimo, infatti, Kelo riceve sul palo lungo, ma si vede stoppare la conclusione da Battistelli. Sulla respinta, Bianco si coordina per la conclusione a rete, con il pallone che, deviato, passa tra una selva di gambe e si insacca per l'1-0. Ancora al trentanovesimo, Sarrizu parte dalla propria aria, attraversa tutto il campo, resiste a un contrasto e si invola in porta. A centro aria c'è Kelo, ma il sette rosso-blu non lo serve in tempo e la difesa sventa. Termina con un vantaggio minimo, ma la consapevolezza di poter chiudere i conti in terra umbra. Ci vuole un ultimo sforzo collettivo per potersi regalare questa gioia. A fine gara, gli applausi meritati dello stadio e un tributo della curva al capitano Pinna, che raggiunge 342 presenze in rosso-blu, eguagliando il record di Morosi. Record che domenica prossima potrà essere superato. Una giornata estiva ha tenuto a battesimo il progetto ideato dal CONI dedicato ai giovani. Vivi lo sport che vuoi ha visto protagonisti tantissimi atleti in erba che hanno potuto provare sul campo le più disparate discipline sportive. I Coribichesu ha sentito l'assessore allo sport del comune di Ploaghe, il delegato provinciale del CONI per Sassari, Olbia, Tempio, Lucio, Masia. Sentiamo. Vivi lo sport che vuoi. Il progetto del CONI ha riunito a Ploaghe giovani atleti e atlete che hanno provato sul campo le più disparate discipline. Siamo molto orgogliosi di poter ospitare questa manifestazione. Credo che il punto centrale sia proprio questo. Educare i bambini alla polisportività è soprattutto una scelta dello sport che preferiscono i bambini e nonno come spesso accade lo sport che magari è stato quello del genitore dove magari non ha raggiunto gli obiettivi voluti e li vuole far raggiungere il figlio. Diciamo che Ploaghe ha una buona copertura per quanto riguarda quella che può essere una promozione sportiva ma è anche una scelta abbastanza importante. Stiamo raggiungendo degli ottimi risultati in campo provinciale soprattutto ma la cosa che ci rende più orgogliosi è che la partecipazione dei bambini è veramente importante. Ringrazio naturalmente l'assessore, grande organizzatore. Noi facciamo quanto ci detta il CONI, oggi il CONI ha dettato la giornata dello sport nazionale quindi noi abbiamo cercato, abbiamo trovato in Ploaghe dei partner veramente molto ma molto interessanti. Ci hanno dato una mano, non lo dobbiamo negare, anche le organizzazioni ci hanno messo a disposizione questo bellissimo campo che è stato inaugurato, il baule che è stato inaugurato soltanto una quindicina di giorni fa. È molto bello per cui francamente siamo molto contenti. Il riscontro, bisogna anche fare il conto con le scuole che hanno terminato, che siamo in domenica per cui il riscontro è positivo sino a questo momento, ancora stiamo attenendo gente però ripeto, siamo molto contenti. Finisce qua questa edizione del nostro telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questo TG sul nostro sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dai vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv Inoltre se siete in possesso di un decoder sky ci trovate al canale 5012 potete seguirci anche sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, Youtube e Twitter. L'appuntamento ora è con le notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Cronos L'appuntamento invece con l'informazione di canale 12 torna domani mattina come sempre alle ore 7 con il rullo informativo e TG alle 14 alle 19 e 45. A me non resta che ringraziarvi per averci scelto e augurarvi un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.